Noi partiamo dalla progettazione di oggetti che guardano al contemporaneo, guardano a quello che succede a Londra, a New York e in Europa in genere. Quindi non faremo dei segni che guardano al passato e speriamo che questa contemporaneità faccia affezionare a questi oggetti i cittadini. I cittadini affezionati possono avere una doppia valenza, sia una valenza culturale, quindi di bellezza estetica, e poi una valenza per non farli vandalizzare come succede, perché se si affezionano a questi oggetti li curano. Saranno gli studenti del corso di design e graphic design dell'Accademia di Belle Arti di Napoli a ideare e progettare alcuni elementi di arredo urbano della città, concentrandosi in particolare sulle panchine, sui cestini per i rifiuti, sulle rastrelliere per biciclette e totemi informativi. L'iniziativa è stata concordata fra Comune di Napoli ed Accademia per affidare agli studenti le soluzioni che saranno trovate attraverso il confronto ed il dialogo con i segni della città. L'accordo prevede la realizzazione di campagne di marketing sociale, comunicazione visiva e promozione delle attività dell'amministrazione comunale, lo studio di sistemazione di aree e cittadine ed appunto l'elaborazione di progetti di elementi di arredo urbano. Miglioramento della qualità estetica dei luoghi insieme al tema della rigenerazione di questi stessi luoghi, della rigenerazione urbana, qualitativa e sociale per una nuova dignità di vita dei cittadini. Stiamo operando in questi anni in collaborazione con l'amministrazione comunale attraverso una messa a disposizione di quello che è il nostro principale interlocutore in questo territorio, delle competenze, delle capacità progettuali e anche della creatività dei nostri studenti. Gli studenti dell'Accademia sono innanzitutto dei cittadini. L'importanza di coinvolgere le istituzioni del territorio per rafforzare la riqualificazione urbana, partendo anche dallo studio della grafica e del design dell'Accademia delle Belle Arti di Napoli, per far partecipare i ragazzi del corso. Oltre che sistematizzare la riqualificazione, è anche un progetto civico che tende a rafforzare, partendo dal basso, la partecipazione dei nostri ragazzi.